Riuscire a fare il record italiano anche nel dicembre del filo dopo aver fatto la settimana scorsa quello dei 400 misti è sicuramente una grande soddisfazione, sono veramente contento di aiutare la mia squadra a fare punti, a divertirsi loro mi aiutano a dar forte e io spero di stare facendo lo stesso con loro quindi sto vivendo questa esperienza veramente nel migliore dei modi e si vede anche nei risultati Ad un certo punto eravate veramente vicino ai cali che poi vi hanno superati diciamo nelle due skin finali come hai vissuto questa giornata con la squadra? No, è stata una giornata come ho già detto veramente fantastica, sia ieri che oggi io veramente adoro questa squadra, ci divertiamo un sacco, andiamo forte quindi è perfetto oggi sì siamo stati veramente vicini a battere i cali condorsi, sarebbe stato veramente incredibile dopo la mia gara ho visto che eravamo avanti in qualche punto e speriamo che i ragazzi delle skin riescano a fare bene sono stati bravi però purtroppo i cali condorsi nelle skin sono veramente troppo forti e quindi sono stati più bravi loro però insomma anche noi direi che abbiamo fatto un grande risultato e non siamo solo che essere soddisfatti di oggi, di ieri e di tutti i nostri tre match fino adesso Anche questi record a chi li dedichi? A tua mamma magari che stava sempre vicino a Valentino Rossi e a tuo nonno che hai sentito un attimo qua? Sì, oggi sono contento di aver fatto un record italiano che c'era anche mia nonna a vederli quindi ci tenevo a fare una bella gara, a farlo divertire visto che è venuto apposta da casa e non so, li dedico a tutti quelli che mi seguono, che mi tifano, che mi supportano, chi mi aiuta con questo percorso e che tutti i giorni mi aiuta a dare sempre il 100% in acqua e a divertirmi Valentino è un po' isolo, vero? Sì, sì, certo Ma l'hai incontrato? L'hai incontrato? L'hai incontrato? No, l'ho visto, sono stato vedere un paio di gare a Misano però non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, magari sarebbe figo il giorno Questa vasca di Napoli ti piace particolarmente? È anche il pubblico? Sì, sì, è una vasca bellissima Facciamo un po' un contesto speso dopo l'Universieri che purtroppo sono stato squalificato ho fatto un errore e direi che ora sono felicissimo di queste gare mi piace l'atmosfera, il pubblico è fantastico la città mi sto trovando veramente bene un mese qua mi sembra quasi di essere in vacanza perché è veramente fantastico quindi è tutto veramente bello e mi sto veramente divertendo un sacco con queste ISR Poi ti alleni in un'altra città di mare, a Livorno, c'è un bel gruppo con il quale state facendo un bel lavoro Sì, sì, a città di mare c'ho un debole, da Genova, Sesto Levante, che è la mia casa, e Livorno comunque hanno molte similitudini e anche Napoli direi che assomiglia molto a certi aspetti quindi sono contento anche di questo e il gruppo di Livorno è veramente fantastico io da quando sono lì sono veramente contento della scelta che ho fatto non perché a casa mi trovasse male ma perché mi stariva quale di stimolo in più che me lo danno tutti i giorni i miei compagni spingendomi a dare il massimo come fanno i miei compagni di Toronto Titans in questi giorni con cui mi sto allenando e io penso che il nuoto è uno sport individuale ma la squadra può fare la differenza certe volte e si vede in questo caso Tu sei diventato un po' l'idolo di Toronto adesso Eh sì, il fatto che siamo in Italia e sono italiano mi sto veramente divertendo tutti mi chiedono qualche parola in italiano tipo ma adesso il nostro motto è andiamo Titans perché mi hanno chiesto come si dice let's go e allora gli ho detto andiamo e allora adesso tutti dicono andiamo andiamo e questa è una cosa veramente che adoro e è bellissimo Senti, l'ultima cosa, prospettive mondiali, vasca lunga, vasca corta Sì, quest'anno è un anno veramente fitto di impegni cioè praticamente tutto mondiali, vasca lunga, vasca corta, europei, vasca lunga, vasca corta quindi voglio chiaramente cercare di dare il massimo in tutti gli appuntamenti e cercare sempre di migliorare i miei tempi e di fare il meglio possibile quindi lavorerò obiettivo per obiettivo con Stefano vediamo già bene cosa fare quindi cercheremo di dare il 100% ogni volta Grazie mille Grazie a voi